Ioannio Aristhus, ho fatto CrossFit Cosmos, ho fatto Master 35 Plus, ho fatto CY Games, Workout Vio. C'è un giocatore? Un giocatore? Un giocatore? Se no c'è un giocatore, non c'è un giocatore, non ci chiamo con il giocatore. I'm a star! Un giocatore! Un giocatore? Un giocatore? 6 3 2 1 5 6 6 7 6 7 8 9 10 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 22 22 23 23 24 25 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 26 26 27 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti